buongiorno 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 e pace e un bello bacio a tutti quanti io sono pronta ci sta il truccatore ci sta la parrucchiera mi devo preparare per il videoclip pop con chi devo fare la canzone il fratello di chi? il fratello di chi? di campagna è uno ex dei cugini di campagna si hanno appiccicato stanno chiuso e poi comunque abbiamo la diretta con il parrucchiere e la truccatice e con laura la tv siete pronti? io non vi abbandonerò mai un bacio da noi ciao ciao state così state così state così che hai avuto un bambino perché questo videoclip lo ha da girare pure le luci però 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 c'è un però siccome si deve ancora legna come si dice la cosa? legna a disco fa domani lui perché poi domani dobbiamo girare qua cammine tutto il mattino il mio marino si mette in bambino con il vasete solo però tutte le mattine le succelami madre natura questo è il mio suocero giruzzo il mio suocero sta sfruttando le mela mia mamma ha misurato il diabeto con mia mamma ogni ora mi sta accudendo il pomeriggio da quando è uscita i mamma ogni ora mi sta venendo a fare l'insulina che ti sta facendo passaggi non mi lascia qua c'è stasà si sta mangiando il brodo eccola qua va bene? vita stasera spesa si a quest'ora a quest'ora qual è l'ora? c'è la sanguiana e il bucchia la rosa ci stanno i morganti vedi i morganti se trovi i morganti no i voti non mi piacciono i morganti vedi questi sono i morganti sono i morganti sono i morganti vedi la sua vita ma che è i morganti? morganti signora Puccio buonasera Puccio buongiorno e stasera a nuva famora e così non vai a metter signore il fiocco della della non ce l'ha buongiorno vedi i morganti Grazie.